Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con il meteo. L'anticiclone nord-africano continuerà ad avvolgere l'Italia e buona parte del Mediterraneo per buona parte della settimana. Quindi ancora dovremo fare i conti con tanto caldo, tafa crescente e anche assenza di precipitazioni significative in grado di contrastare quantomeno la siccità ormai dilagante su tutto lo stivale. In Italia un inizio di settimana dominato dal sole, stessa situazione anche in Abruzzo ovviamente con cielo sereno ovunque, specie al mattino, poi nel pomeriggio qualche nuvoletta in montagna. Non ci aspettiamo fenomeni annessi. Le temperature grossomodo stazionarie, le massime tra i 30 e i 34 gradi, valori più alti nelle aree interne a bassa quota, nelle conche, sugli alti piani dove avremo scarsa ventilazione, minime tra i 19 e i 25 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.